Il turno infrasettimanale contro Il Bologna di Pippo Inzaghi anticiperà il primo big match stagionale dei bianconeri, quello di sabato contro il Napoli. Come dichiarato da Allegri al termine del match contro il Frosinone, la Juve non potrà permettersi di perdere punti in vista dello scontro diretto con gli azzurri che sa già di sfida scudetto. I rosso-blu sognano invece il colpaccio dopo la prima vittoria stagionale ottenuta contro la Roma. Probabili formazioni e diretta tv di Juventus Bologna Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di domani sera.Nella Juventus è finalmente arrivato il momento di Mattia Perin, che farà il suo esordio in bianconero. Al centro della difesa si rivedrà Bonucci, mentre si prospetta un turno di riposo per Chiellini e Alexandro. Il terzino brasiliano sarà con ogni probabilità sostituito da Cancelo, con quadrado confermato sulla destra.A centro campo si rivede Matuidi, mentre Bernardeschi e Dybala supporteranno Cristiano Ronaldo. Riposo anche per Mangiukic.Pippo Inzaghi, che dovrà fare a meno dello squalificato Pulgar, potrebbe confermare la squadra che ha battuto la Roma. Coppia d'attacco formata da Falcinelli e Santander, con l'unico ballottaggio che riguarda il ruolo di esterno-sinistro. Crici è al momento favorito su Orsolini.Juventus 4-3-2-1 Perin, Quadrado, Bonucci, Benatea, Cancelo, Emre Can, Pianic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Bob. Allegri Bologna 3-5-2 Skorupski, De Maio, Danilo, Calabresi, Mattiello, Sbanderi, Nad, Gemaili, Crici, Falcinelli, Santander. Bob. Inzaghi diretta TV e streaming Juventus Bologna alla sfida. In programma domani sera alle ore 21,00. Sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn, con la telecronaca di Massimo Callegari e Francesco Guidolin. La squadra di Allegri ospiterà i Rosso-Blu nel turno infrasettimanale Juventus Bologna. Probabili formazioni TV riparte dall'Allianz Stadium. La corsa della capolista Juventus, sempre vincente nelle prime cinque giornate di Serie A. Il turno infrasettimanale contro il Bologna di Pippo Inzaghi anticiperà il primo big match stagionale dei Bianconeri, quello di sabato contro il Napoli. Come dichiarato da Allegri al termine del match contro il Frosinone, la Juve non potrà permettersi di perdere punti in vista dello scontro diretto con gli azzurri che sa già di sfida Scudetto. I Rosso-Blu sognano invece il colpaccio dopo la prima vittoria stagionale ottenuta contro la Roma. Probabili formazioni e diretta TV di Juventus Bologna Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di domani sera.Juventus Bologna Le possibili scelte di Allegri e Inzaghi nella Juventus è finalmente arrivato il momento di Mattia Perino, che farà il suo esordio in bianconero. Al centro della difesa si rivedrà Bonucci, mentre si prospetta un turno di riposo per Chiellini e Alexandro. Il terzino brasiliano sarà con ogni probabilità sostituito da Cancelo, con quadrado confermato sulla destra. A centrocampo si rivede Matuidi, mentre Bernardeschi e Dybala supporteranno Cristiano Ronaldo. Riposo anche per Mangiukic.Pippo Inzaghi, che dovrà fare a meno dello squalificato Pulgar, potrebbe confermare la squadra che ha battuto la Roma. Coppia d'attacco formata da Falcinelli e Santander, con l'unico ballottaggio che riguarda il ruolo di esterno-sinistro. Creci è al momento favorito su Orsolini.Probabili formazioni Juventus-Bologna Juventus 4-3-2-1 per in, quadrado, Bonucci, Benatia, Cancelo, Emre Can, Pianic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri Bologna 3-5-2 Skorupski, De Maio, Danilo, Calabresi, Mattiello, Svangari, Nad, Gemairi, Creci, Falcinelli, Santander. All. Inzaghi diretta TV e streaming Juventus-Bologna la sfida, in programma domani sera alle ore 21,00, sarà trasmessa in esclusiva in diretta, streaming su Datsen, con la telecronaca di Massimo Callegari e Francesco Guidolin.Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie. Grazie a tutti.